Mizzica Film Festival è l'unico festival al mondo dove si vince una stretta di mano. Giunto ormai alla settima edizione sotto la direzione dell'ideatore del festival, Nicola Palmeri, Mizzica Film è il festival che in modo originale sottolinea che lo scopo nobile del fare cinema è quello di raccontare storie e di regalare sogni. Come ogni anno il festival itinerante per statuto e originale per definizione ha in programma giornate ricche di appuntamenti per l'imminente edizione 2014, che si svolgerà a Via Grande. Il 1 agosto si svolgeranno le premiazioni dei cortometraggi vincitori e sarà presentato anche il progetto Moving Sicily della Dibo Eventi, un'applicazione per smartphone che mapperà le location sede di set cinematografici svolti nell'isola. Il 2 agosto ci sarà il festival State Accorti, l'altro grande progetto della Dibo Eventi, l'unico festival del cinema ironico siciliano. Il 3 agosto invece ampio spazio sarà dato all'Accademia delle Belle Arti di Catania e al coordinamento dei festival siciliani di cui Mizzica Film, State Accorti, fanno parte. Sono ancora aperte le iscrizioni dei cortometraggi, documentari e videoclip all'edizione 2014 di Mizzica Film. L'iscrizione è totalmente gratuita e semplicissima. Basta collegarsi al sito mizzica.net dove è disponibile il bando 2014. Mizzica Film oltre a premiare il videomaker che vince appunto il concorso, premia anche delle personalità che si sono distinte nel campo cinematografico e che sono simpatiche per noi. Infatti quest'anno abbiamo premiato Alessandra Costanzo che ha condotto poi devo dire magistralmente questo laboratorio teatrale Action Lab con molti ragazzi, molti aspiranti attori e abbiamo premiato anche Renato Scarpa. Mizzica Film Festival Mizzica Film Mizzica Film